Si riaccendono le luci della macchina dei sogni. Dopo un lunghissimo e durissimo stop i cinema sono pronti a ripartire per una stagione estiva che sarà molto particolare. Nei prossimi giorni la multisala Paolillo di Barletta riaprirà i battenti nel rispetto delle norme anti-covid. Finalmente possiamo riaccendere le nostre luci e riaccogliere il pubblico. Ci saranno comunque dei protocolli sanitari più restrittivi rispetto anche a quelli precedenti e non sarà possibile mangiare in sala, consumare bevande, ci sarà comunque sempre il distanziamento garantito già dal momento dell'emissione dei biglietti. E' preferibile l'acquisto online dei biglietti o comunque nel momento in cui ci si rica in cassa è preferibile il pagamento con carte di credito, così come è previsto dal decreto. E chiaramente non sarà possibile sostare nella hall prima della visione del film. Quindi abbiamo adottato delle misure di sicurezza per il nostro pubblico, più ferre anche rispetto a quelle precedenti, proprio per garantire la fruizione in totale sicurezza per tutti. Quella che sta per cominciare sarà dunque un'esperienza nuova. C'è però fiducia per la risposta del pubblico che potrebbe essere favorita anche da particolari iniziative in cantiere. Sappiamo che non sarà facile, cercheremo comunque di andare incontro anche alle esigenze del nostro pubblico, magari anche un confronto maggiore, cercando di capire quali sono le loro esigenze rispetto anche alle nostre, cercando di farle conciliare. Cercheremo anche di aderire a nuove iniziative proposte anche dal Ministero, le notti bianche del cinema, un 48 ore non stop previsto nelle sale cinematografiche di tutta Italia. L'avvento dell'estate non fermerà le attività delle sale, alle quali si potrebbe aggiungere anche l'allestimento di un'arena all'aperto. Non ci fermeremo, per fortuna le case di distribuzione rispetto a quelle che erano le prime indicazioni hanno cominciato a mettere in campo anche delle uscite estive e noi nel nostro piccolo ci saremo, anche con un solo spettacolo al giorno, ma la nostra struttura rimarrà aperta. Non sappiamo se sarà possibile anche un'alternativa all'esterno, all'aperto di un'arena, ma la nostra struttura al chiuso rimarrà sempre aperta. Dalla direttrice un sentito invito al pubblico. Siamo qui ad accoglierlo dal 20 maggio. Siamo qui ad accoglierlo dal 20 maggio.